Un agente deve programmarlo, farlo crescere, vestirlo, come si deve comportare, da quello che deve dire, da come si deve vestire, capire la testa. E a Silvio Berlusconi devo parecchio, perché mi ha permesso di poter lavorare nei suoi canali. Silvio Berlusconi è un grande uomo, è un grande leader, non richiama le ideologie o i sistemi o i modi o l'essere di Benito Mussolini, però è una grandissima persona, sono molto felice e molto entusiasta quando lo dico di quello che sono mussoliniano, non mi nascondo, io sul mio telefonino porto gli inni di Mussolini. Certo, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, te ne faccio sentire un pezzo, scusa un secondo. È un bel bel è inizio. È un bel bel è inizio. E un bel bel è inizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.